Veloce, veloce, guarda. Allora, questo è Alan e il suo nome è Alan. Questo è Kevin, è Kevin, bravo. Questo è Jeremy e il suo nome è Jeremy. Questo è Todd e il suo nome è Todd. Questo è Matt, è Matt. Questo è Sam e il suo nome è Sam. Questo è Jude e il suo nome è Jude. Mi dici te, vai, tocca a te. Alan. Alan, sì, ma questo è Alan. Il suo nome è Alan. Bravo. Poi, chi c'è? Kevin. Questo è Kevin, il suo nome è Kevin. Quale? Ok, poi? Questo è Jeremy, il suo nome è Jeremy. Bravo. Questo è Todd, il suo nome è Todd. Questo è Matt, il suo nome è Matt. Ok. Questo è Sam, il suo nome è Sam e questo è Jude. Il suo nome è Jude. Ok, grande. Li hai conosciuti tutti, li hai conosciuti. Bravo.